L'incendio del primo pomeriggio di martedì in un calzaturificio in località Malva, nel comune di Loro Ciuffenna. Le fiamme hanno interessato la cappa aspirante esterna dell'azienda Ciacca e circa 60 operai che erano al lavoro sono stati fatti evacuare. L'incendio si è sviluppato all'esterno dell'azienda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, tre squadre tra Rezzo e Valdarno con un funzionario che hanno domato le fiamme e bonificato l'intera area. Grazie al pronto intervento del personale del calzaturificio addetto alla sicurezza, i dipendenti sono stati tutti fatti evacuare l'incendio domato in poco tempo.